mister pagliacetti domani come sempre gara difficile questa in particolare visto anche il terreno di gioco della vastese visto che vengono una vittoria fuori casa a diciamo qualche insite in più come ci arriva giulia nova ci arriva bene dobbiamo arrivarci bene ma ci arriva bene abbiamo avuto una settimana buona di lavoro la settimana piena abbiamo cambiato qualcosina anche sull'approccio fisico per cui sarà una partita molto difficile su un campo difficile una squadra che in salute per cui dobbiamo fare le cose con la testa e con le gambe sicuramente chi scenderà in campo saranno quelli che saranno meglio perché adesso non ci possiamo permettere di fare regali grazie a tutti grazie a tutti